Bollette in ritardo, importi sbagliati e poi la barriera insormontabile del call center difficilmente contattabile è quasi mai risolutivo. E' crescente a Trieste il numero di contestazioni sui servizi di erogazione di luce, acqua e gas come testimoniano le numerosissime segnalazioni a Telequattro su questo argomento. Si stima che i disservizi riguardino circa 1.400 utenti dei circa 140.000 a Trieste. In loro soccorso scendono in campo CGL e Feder Consumatori. E' triste per molti utenti avere a che fare con questi problemi, molti anziani, molte persone in difficoltà. Uno dei problemi più pesanti è quello che non si riesce a parlare con l'azienda. Bisogna passare attraverso i call center dove ci sono bravi ragazzi, brave persone che cercano di fare al meglio il loro lavoro ma non avendo specifici poteri, di fatto si limitano a raccogliere la segnalazione, trasferirla ai piani alti e poi non succede più niente. La CGL avvia dunque un servizio di ascolto dei cittadini anche attraverso le sedi del sindacato pensionati e in collaborazione con la Feder Consumatori che già si occupa di raccogliere questo tipo di segnalazioni chiederà incontri periodici con il comune e le aziende interessate, soprattutto la storica Cegas ma non solo, poiché i soggetti sul mercato sono molteplici. L'obiettivo è il miglioramento del servizio. Io stesso personalmente ho avuto casi di questo genere e ho dovuto poi seguire altre vie tipo la stampa per andare a risolvere alcuni casi e non li ho nemmeno risolti. Quindi su questo, partendo da questo assunto qua, noi abbiamo deciso di lanciare una campagna andremo a queste verifiche con le aziende per capire se effettivamente intendono risolvere i problemi oppure no.